Ciao ragazzi, nuovo video, ve lo faccio perchè stamattina in casella postale finalmente mi è arrivato il pacco del giveaway di Cristina, eccolo qui! Andiamo a scoprire che cosa c'è al suo interno, apriamola assieme, seguite il video, un bacio! Il contenuto si trova tutto dentro in questa scatola, con tutte queste decorazioni rosse, apriamola! Ecco il contenuto! Il primo prodotto che mi è arrivato è questa matita della linea Safari, chiusa, ve la faccio vedere, è una matita nera, con tutte queste macchie tipo leopardate. E sono arrivate queste due matite lip pencil, che sono glossate, che sono una più sul rosato e l'altra più sul viola. La cosa che mi è piaciuta di più secondo me è questo profumino, che si chiama Blush for a Woman, di Miguel... Non riesco a leggere... Vabbè, praticamente dovrebbe essere l'imitazione di un profumo famoso. Ovviamente c'era il cartellino con i contatti di questa ragazza, che si chiama Cristina, e sono tutti prodotti di Cristian Lai, che io non avevo mai provato sinceramente, questo brand, questa marca. Insieme c'era anche questo anellino, molto molto carino, placcato in oro, che ha tutti questi motivi. Lo faccio vedere anche indosso, così. Eccolo qua. E per finire, quattro smalti, non, otto, quattro. Quattro smalti di Cristian Lai, che vi faccio vedere adesso uno ad uno. Il primo, che è uno rosso. Il secondo colore, che è questo lilla. Il terzo, che è questo marrone ramato, molto bellissimo, so che non si dice mai, molto bellissimo. E infine questo colore, che mi sembra più tendente al borgogna, così. Ormatt. Ringrazio Cristina per avermi spedito questo pacco, sono stata molto contenta di vincere un suo giveaway, che qui sotto vi lascio il link del suo canale. Tra l'altro qua stanno svuotando i sacchi dei vetri, quindi c'è un rumore incredibile. Non sono scelto il momento adatto per registrare questo video. E vi mando un grosso bacio. Rimanete collegati al mio canale. E al prossimo video. Ciao! Grazie a tutti.